Dalla l'ufficio, senza lalallo, dalla direttrice, con un accantino, domanda al servizio, camera a legge, portone al servizio, le grandi palazzi, a disposizione, ai principi lutte, del conto valore, un bel servizio, oppure me ne fanno, con matrimonio. Con un bel avvocato. Oh, ma, ma, ma come sono bella, di bianco vestita, tutta le fiori, sono riosmata, la notte diciono, sono rimierizzata, la gente mi chiama signora, madama, quando mi vengo, sono capriciona, E lo colo da lungo che dà, il pomeriggio di acqua al estante, non che vuoi, è il rompere l'opore. E lo colo da lungo che dà, il pomeriggio di acqua al estante, non che vuoi, è il rompere l'opore. E lo colo da lungo che dà, il pomeriggio di acqua al estante, non che vuoi, è il rompere l'opore. E lo colo da lungo che dà, il pomeriggio di acqua al estante, non che vuoi, è il rompere l'opore. E lo colo da lungo che dà, il pomeriggio di acqua al estante, non che vuoi, è il rompere l'opore.